a differenza agli altri video esordisco subito col pezzo da 90 che è la seduta estraibile con meccanismo elettrico veramente molto molto comodo adesso lo faccio rientrare c'è il bottoncino nascosto qua lato ecco ci vuole un attimo a individuarlo e vi parlo un pochino della della filosofia di questi modelli con la seduta estraibile allora parliamo di movimenti relax tipicamente ci sono i relax quelli con il predellino che si alza con una leva o con un meccanismo elettrico e poi ci sono gli estraibili non c'è un meglio un peggio qui vi esprimo la mia preferenza io sponsorizzo sempre gli estraibili per due motivi uno estetico perché con gli estraibili si riescono a ottenere dei design delle forme che di come dire dissimulano la presenza del meccanismo quindi non si percepisce che c'è il meccanismo eppure c'è e mi dà il beneficio mentre invece con i relax spesso ci sono disegni un po più diciamo un po meno moderni definiamoli definiamoli così e quindi questo è il primo motivo per cui preferisco gli estraibili e poi un altro motivo di preferenza degli estraibili poi il fatto che siano elettrici o manuali è indifferente dipende dal modello dipende anche dal fatto di poter avere in un determinato punto una presa di corrente che alimenti il meccanismo elettrico c'è anche la possibilità di mettere la batteria volendo è quello del del fatto che quando lo allungo sugli estraibili tipicamente la seduta rimane ecco rimane piatta quindi non è inclinata mentre invece sui relax vi cito un modello molto bello che abbiamo con relax che è il modello prado è comodissimo quando mi siedo quindi quando mi metto così è comodissimo quando relax però per esempio a volte divani di questo tipo immaginiamo di estrarre entrambe le sedute a volte magari mi metto un po di sbieco a volte mi metto per la lunga si fa posso anche giocarci a carta con mia moglie seduti seduti con le gambe incrociate sul divano e quindi una seduta inclinata verso la parte posteriore del divano in certe situazioni d'uso secondo me è meno comodo e quindi questa è una considerazione poi voi ne fate l'uso l'uso che ritenete tipicamente questi con le sedute estraibili hanno delle sedute piuttosto portanti ok quindi non sono divani morbidosi dove si sprofonda cito un altro aspetto all'interno di quali con le sedute estraibili indipendentemente che siano manuali o elettrici ecco che io ho sempre preferito quelli con l'estraibile che appoggia a terra perché ho sempre preferito quella tipologia pensando al fatto di dire ok ma magari viene io stesso o viene un amico a casa mia e si siede in punta e sostanzialmente qui è a sbalzo e ho sempre avuto una percezione di relativa stabilità relativa affidabilità devo dire in questo caso del newport è talmente massiccio che certo non posso immaginare magari un adulto di 100 kg che salta qua in punta però nell'uso mio privato sarei perfettamente tranquillo e confidente anche con questo sbalzo ritorniamo poi al discorso del design qui abbiamo questa seduta aerea che si estrae unitamente a un piede aereo sollevato da terra e questo fa sì che appunto ci sia questo disegno estremamente moderno e questa funzione di estremo comfort che non sempre sono due cose facili da unire allora qui ho tenuto il cellulare a portata di mano per raccontarvi un pochino la vastità di moduli misure combinazioni che abbiamo su questo modello perché abbiamo il lineare qui vediamo il lineare con chaise long composto dal terminale con bracciolo e ovviamente la chaise long con bracciolo abbiamo gli angolari meridien angolari meridien quindi è un divano angolare senza il bracciolo sul lato corto con una sporgenza che si chiama martello affine alla chaise long e lo schienale anche sul lato corto mentre invece sulle chaise long nuovamente non c'è lo schienale sul lato corto abbiamo poi l'angolare quadro quindi posso creare composizioni angolari la poltrona e il puff e all'interno dei singoli delle singole varianti delle singole tipologie di composizione ci sono un sacco di misure adesso perdonatemi ogni tanto leggo anch'io per esempio vi cito il lineare abbiamo il 180 il 194 il 214 il 234 il 242 il 259 il 289 e 325 quindi un sacco di combinazioni e queste combinazioni ovviamente diciamo possono avere con diverse larghezze di seduta o due o tre sedute e poi ci sono tutte le combinazioni relativamente al fatto che ci sia una seduta estraibile piuttosto che tutte manuali elettriche ci sono veramente tante possibilità mi alzo vi faccio vedere la parte posteriore abbiamo il divano complessivamente profondo 108 proprio perché ecco prima ho valorizzato quelli con seduta estraibile rispetto a quelli con relax per esempio vantaggio di quelli col meccanismo relax alzabile rispetto a quelli con seduta estraibile che quelli con relax tipicamente sono un filo più compatto in profondità questo è 108 centimetri perché giustamente il basamento il basamento estraibile deve essere contenuto nella parte posteriore dello schienale vediamo quindi come è fatto possiamo passare di qua adesso vi abbasso tutti i tre cuscini abbiamo gli schienali regolabili li solleviamo con un cricchetto molto semplice ecco vedete la parte dello schienale della seduta estraibile è praticamente contenuta all'interno di questo spessore molto interessante qui vediamo il cricchetto un cricchetto completamente scomparsa questo tipo di meccanismi quando diciamo ero bambino ragazzino che c'era lì vedevo li vedevamo per la prima volta ma per i tanti anni successivi c'è sempre stato il bracetto a vista in questo caso è un approccio molto più pulito non tanto perché poi questa parte io vado a utilizzarla è perché comunque per poterlo non posso appoggiare nulla perché per poterlo chiudere deve essere libera ma per un aspetto di pulizia estetica un ragionamento su questi schienali estraibili questo non vale per il per questo modello ma per qualunque modello che ha questa logica la logica di questi schienali è far sì che quando sono seduto e sono in relax di avere uno schienale alto e quindi ne godo in termini di ergonomia ma far sì anche che quando sono tutti abbassati soprattutto per un divano posto a centro stanza come in questo caso ci sia un profilo relativamente basso e quindi più leggero più digeribile più aereo ok visto che siamo dietro guardiamo anche guardiamo meglio il piedino un piedino perimetrale diciamo così sui tre lati su due lati col raccordo così a 45 gradi c'è in tre finiture questa è la finitura graffite lievemente lucido vediamo anche il bracciolo questo è il bracciolo che noi abbiamo esposto in showroom che secondo me è quello un po più carino perché un po più pulito detto questo in gallery c'è anche un bracciolo differente un po più arrotondato con il cuscino in appoggio che si inserisce poi fra la parte rigida del bracciolo e la seduta comunque lo vedete lo vedete in gallery citiamo qui poi il rivestimento fedora è una ceniglia naturale con un peso molto elevato lavabile a secco un po fiammata un tessuto decisamente prezioso disponibile in tanti colori e diciamo viene realizzato con tutta la nostra gamma di rivestimenti viene realizzato in similpelle e in pelle viene veramente splendido